Situazione sempre tesa in Colombia a Buenaventura dopo lo sciopero di venerdì scorso. Nella città portuale sono ingenti i danni provocati dalle violenze scoppiate tra dimostranti e poliziotti al termine di una manifestazione pacifica. Blocchi stradali, auto e negozi incendiati, vie di accesso al porto completamente bloccate, atti di vandalismo e saccheggi, come racconta anche questa donna. E' stato molto triste vedere quello che è accaduto qui a Buenaventura, tutto distrutto, una devastazione. Questo è stato l'esito di uno sciopero che si è concluso in modo davvero tragico. I disordini hanno provocato almeno una vittima, decine di feriti e oltre 41 arresti. Alla base delle proteste, le richieste di maggiori investimenti sociali per una città, da tempo in preda a criminalità e a povertà crescente. Molti dei residenti non hanno accesso a diversi servizi base, compreso quello all'acqua potabile.